Mercoledì 21 ottobre, scuole chiuse a Montemesola, niente accesso dunque nella scuola primaria e secondaria di primo grado per permettere le opportune operazioni di sanificazione degli ambienti. La decisione è comunicata dal primo cittadino Ignazio Punzi nella tarda serata di martedì, dopo la conferma della positività al Covid-19 di due bimbi di 9 anni appartenenti ad una stessa classe ed un insegnante della scuola primaria di altre classi. Sono stato in continuo contatto con il dirigente scolastico il dottor Tavella fino a poco fa per decidere di da farsi, vista la situazione che si è venuta a creare in conseguenza della vicenda Covid che conosciamo. In un primo momento la scuola aveva comunicato l'indibizione dell'ingresso ai soli bambini di tre classi della scuola primaria e del mondo di Anicis. Valutando meglio tutte le circostanze, in accordo con l'istituzione scolastica, in via del tutto precauzionale, abbiamo deciso di chiudere per la sola giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, entrambi gli edifici scolastici, quindi sia la scuola primaria e elementare che la scuola media. Questo per consentire una sanificazione nel miglior modo possibile di tutti i locali degli stessi edifici. Tutti i compagni di classe dei due bimbi saranno sottoposti a tampone lunedì 26 ottobre, nel frattempo sono in isolamento fiduciario. L'ASL sta procedendo al tracciamento anche dei contatti stretti dell'insegnante.